Come sta andando un Kaistar Rail? Vende? Non vende? Sta per fallire? Ha superato Genshin? È più potente? Evviva! Ne parliamo dopo la transizione. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti, 40.000 grazie. Siamo arrivati a 40.000 iscritti su YouTube, vi voglio un bene dell'anima, grazie di cuore. Siamo vicini ai 10.000 anche su TikTok, siamo vicini ai 30.000 anche su Twitch, è una situazione veramente meravigliosa ed è tutto grazie a voi, quindi di questo io vi ringrazio. Nuovo obiettivo, 50k qui su YouTube, aiutatemi a crescere, iscrivetevi e azionate la campanella. Detto questo, questo video è il continuo di quello che avevamo fatto e che trovate in sovraimpressione riguardo alle previsioni su come sarebbe andato un Kaistar Rail. Avevamo tante domande, avevamo tanta curiosità, un Kaistar Rail sarebbe andato bene, sarebbe andato male, avrebbe trascinato community di Genshin, non l'avrebbe fatto, come avrebbe reagito, insomma tante tante domande. E finalmente dopo la prima settimana abbiamo la prima milestone, ovvero abbiamo i primi dati che possono essere chiaramente presi con le super pinze perché è ancora presto, ma abbastanza indicativi di quella che è stato l'andamento nella primissima fase. Ovvero, vi avevo detto in quel video, ve la faccio long story short, avevo detto prima settimana al boom enorme, nelle settimane successivi per arrivare al mese ci sarà un lento calo verso un assestamento di quello che sarà il suo valore e il suo numero naturale endemico del titolo. Che potrebbe essere anche molto alto, questo non lo sappiamo, per poi per l'appunto vedere con i nuovi banner, gli eventi e soprattutto con l'arrivo dell'endgame che sarà il grosso scoglio, se terrà e manterrà il suo successo e il suo andamento nel tempo anche in concomitanza con l'arrivo poi di Funtan di Genshin e di altri probabilmente titoli nel futuro. Nella prima settimana vi posso già dire che la situazione è bella bella tosta, è bella bella tosta, poiché, ora andiamo un attimino sul cambio schermo, poiché abbiamo già i primi dati. Questo è il dato che viene da Genshinlab.com che conta solo la revenue, quindi i soldi in dollari dal mercato cinese, che è quello che conta, su dispositivi iOS, quindi solamente su dispositivi iOS. Non stiamo considerando Android, non stiamo considerando PC, stiamo considerando solo chi ha l'Apple, il Pad o TV, roba del genere, solo su quello. Partendo dal 26 di aprile per arrivare al 2 di maggio, questo è l'andamento del primo banner di Zele o di Sili se l'ho pronunciato alla giapponese. BAM! Siamo a... aggiornato al 2 di maggio, quindi a ieri, a 21.294.000 dollari. Sono tanti? Sono pochi? Allora, consideriamo chi è solo nel banner evento, quindi noi non sappiamo di fatto sugli altri banner come è andato, è solo nel mercato cinese ed è solo su iOS. Quindi, togliete tutta l'Europa, togliete il Global, togliete gli altri, togliete tutto. Siamo a 21 milioni. Secondo voi, e qua vi do 2 secondi, 5 secondi per fare un giochino che ho fatto anche in live l'altro giorno, un banner di Genshin equivalente a quello di Zele, quindi il banner evento, quello su cui poi ogni 20 giorni cicla, normalmente quanto fa? 5, 4, 3, 2, 1. Se avete detto dai 10 ai 30 milioni, più o meno avete fatto giusto, ma sapete quello di Zele cosa ha superato? Ha superato quello di Ayaka Prima Ran. Se noi pensiamo ad Ayaka Prima Ran, aveva fatto, sempre ricovetto sul mercato iOS, China Market cinese, 16.451.000. Cioè, in questo momento, Zele ha superato la terza reran di Tinari Zongli, quindi la terza reran di Zongli, Kino e venti, Tartaglia Ia e Mico, Ale Shao, Albedo e Deula, Shankia e Shao, eccetera, eccetera, eccetera. Rimanendo sotto per ora, ma lo supererà di sicuro, perché questo è un dato mensile, supererà di sicuro Kli, supererà di sicuro Ayaka 20, arriverà, secondo me, a superare anche la reran singola di Utao. Vedremo dove andrà a stabilirsi in questo posto. Ora, questo è un dato, effettivamente, che vi farà dire, wow, incredibile, è abbastanza prevedibile che andasse così. C'è un sacco di community curiosa, c'era un sacco di persone che aspettavano, soprattutto della community di Onkai, è un personaggio estremamente interessante, estremamente bello, c'è la novità. A livello di altre alternative in questo momento su titoli simili è un momento un attimino di fermo, quindi ci sono una marea di fattori che possono aver contribuito a questo incredibile risultato. Però, non bisogna togliere a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, diamoglielo un plauso. È un titolo che, onestamente ritengo molto valido, che, come avevo anticipato, l'obiettivo era quello di Mioio, era quello di creare un titolo che facesse la milestone da Pietra Migliare da punto di inizio verso un genere, ovvero quello del JRPG gacha di AAA di questo livello. Lo ha fatto con Genshin sull'open world, ci sta provando anche in questo, e non è detto che ci riesca. Scatenando e poi aprendo il via, anche se secondo me in maniera un pelo inferiore, ha un, non la Genshin mania, ma una Star Rail like, che potremo vedere in futuro. Andiamo a vedere un attimo altri dati. Secondo voi, quanti download sono stati fatti il primo giorno del titolo? Seguendo un Forbes, il primo giorno sono stati fatti 20 milioni di download. 20 milioni. Sono tantissimi. Poi, ovvio, i 20 milioni di download non si convertono in 20 milioni di dollari, non si convertono in 20 milioni di giocatori. L'abbiamo scaricato in 20 milioni? Ce ne giocano 8? Buono. C'è chi lo disinstalla subito, c'è chi non continua, ma comunque tanta, tanta, tanta roba. Se pensate che Onkai Star Rail è il quarto gioco, no? Ok? Ci sono giochi che hanno fatto un milione di download dopo 11 giorni, come Onkai Impact, ok? E i 35 milioni di by marzo del 2018 in Cina, sempre di Onkai Impact, nel 2018? Cioè, questo ha fatto 20 milioni in 24 ore. Cioè, questi hanno raggiunto queste cifre in anni, questi in 24 ore. E qual è stato il debutto di revenue, sempre tenendo conto del mercato cinese su iOS? Genshin Impact ma ha fatto 4 milioni e 98 quando era uscito, ok? Onkai Star Rail ha già fatto 6 milioni nelle prime 24 ore. Quindi, cosa dobbiamo dire riguardo a questo titolo, secondo me? Siamo, ripeto, nella assoluta prima settimana dove tutto va bene, dove tutto è meraviglioso, dove le risorse ci sono, i giocatori sono emozionati, i giocatori sono in hype, hanno magari il portafoglio facile, le risorse sono abbondanti, quindi magari ti stimolano anche ad avere quella spinta in più per dire, beh, ce li butto sti 30 euro perché già sono messo bene, così sono messo ancora meglio, e yada, yada, yada. Veniva poi spinto da un vento favorevole enorme, che era quello dell'azienda Mioio e del successo che ha portato già con Onkai Impact Third, ma con Genshin Impact soprattutto, che si è aperto al grande pubblico. Quindi, diciamo che meno di così sarebbe stato un grosso problema, secondo me. Siamo sicuramente in rose aspettative, ma in linea con quello che immaginavamo. Il problema ora è il futuro. Il futuro vuol dire, bisogna vedere se questa nicchia si allarga, bisogna vedere quanto il gioco possa dare all'endgame, perché adesso siamo tutti lì che stiamo livellando come dei maledetti, aspettiamo con le scarpe nei denti il livello 34, il livello 29, per riuscire a fare il cambio e avere il continuo della storia, ma nel momento in cui arriviamo in fondo, Poi, dopo, che cosa succederà al titolo? Già l'ha fatto della Simulated Universe, secondo me è una chiccheria. Sì, lo so che c'erano già situazioni simili e modalità simili, ma quella è secondo me davvero una grande opera e mi spaventa anche un po', perché se va davvero così tanto bene, io non vorrei che il prossimo progetto Mioio fosse veramente un roguelike gacha e quello mi sparo, perché a quel punto vuole veramente tirare giù il carico e fare assopiglia tutto. Potrebbe, potrebbe, potrebbe essere una cazzata che mi sono inventato in questo momento, ma sta andando tanto bene quel Simulated Universe, lo stanno apprezzando davvero tanto in tanti, quindi è la cosa più divertente per ora da giocare, quindi bisogna vedere. Però ecco, appunto, vedremo l'endgame, se terrà duro, se non ci sarà un paywall gigantesco, che per ora non c'è. Oh, se va bene, io sono contento. Non, non, non c'è altro da dire. Se va bene, io sono contento. Il videogiocatore duro e crudo al corche in me continua a odiare il gacha system, lo continuerà a odiare per sempre, perché è una roba che per me non esiste e che trovo davvero raccapricciante e terribile, però un titolo può essere valido anche all'interno di questo sistema che io trovo agghiacciante. e un Kystar Rail, a male in cuore, è uno di questi. Non c'è tanto altro da dire. Per ora lo sto ritenendo un titolo JRPG, secondo me, molto molto divertente e molto molto valido. Poi, ci saranno quelli che non gli piacerà, ci saranno quelli che continuano a non avere un amore per quel combat system. L'importante è che non si faccia una tifoseria tra Genshin e questo, che non si paragonino come titoli, ma che quello che stiamo facendo adesso in questo video sia un genuino interesse e curiosità verso il videogioco, il mercato videoludico, e la prospettiva da consumatore interessato e informato su quello che potrebbero essere il futuro di questi giochi, il futuro anche inerente alle nostre spese, al nostro portafoglio. Essere consapevoli del cambiamento, il vederlo arrivare, ci può soltanto aiutare a essere comunque in grado di ipoteticamente anche difenderci di fronte a delle aggressività economiche riguardo al mondo videoludico, che potrebbero andare troppo oltre, vedi le famose lootbox all'epoca con altre situazioni. Detto questo, era un video un po' pipotto, un po' tecnico, lo so che a molti di voi questi piacciono, ma ad altri non fanno impazzire. A me fanno davvero tanto interesse queste cose, spero di essere riuscito a trasmettervelo. Vi auguro una buona serata, noi ci vediamo live su Twitch con Kai Sarelli, con Genshin Impact, United State of Zerga. Ciao belli!